È vero, il maltempo ha flagellato parte dell'Italia con danni gravissimi, vedere la situazione a forte dei marmi tanto per fare un esempio. La mancanza di energia elettrica è dipesa dal crollo di alcuni tralicci e questo è stato causato dal forte vento. La neve è caduta in maniera abbondante a Teramo città e alcune frazioni, ma quello che è successo in 12 ore nella cittadina prutina nel 2015 non è accettabile. Non è accettabile che in un paese civile e tecnologico la mancanza di energia elettrica paralizzi una città intera. Non è accettabile che un po' di neve con una quantità notevolmente inferiore a quella caduta ad esempio nel 2012 blocchi una città. Non è accettabile che rami di piante danneggino auto in sosta solo perché non si è provveduto a una potatura. Non è accettabile che mezzi scansaneve siano fantasmi e che nessuno li veda in giro e soprattutto che non liberino le strade. Per l'amministrazione e brucchi la giornata del 5 marzo equivale a una disfatta totale, proprio come caporetto per l'esercito italiano. Se è vero che c'erano una decina di mezzi in giro a liberare frazioni e vorremmo tanto sapere quali, visto che in alcune è stato impossibile arrivare ed in altre la neve non c'era, e che anche il centro città aveva fruito di interventi, allora le cose sono due. O chi l'ha fatto ha svolto male il lavoro, oppure non è intervenuto e la cosa dovrebbe prendere una piega diversa. Noi abbiamo il vago sospetto che le cose stiano diversamente, cioè che il Comune per vari motivi non sia stato in grado di fronteggiare l'emergenza, che quei mezzi in realtà fossero molto di meno di quanto dichiarato e che questa amministrazione per vari motivi abbia toppato per l'ennesima volta. Se Maurizio Brucchino realizza che questa sommatoria di episodi non fa altro che far precipitare il suo indice di gradimento tra i mani, la strada che sta percorrendo è in forte salita. Non ci sono soldi per intervenire? Lo dica. Non ci sono le capacità? Cambi assessori. Ma una cosa è certa, Teramo non merita tutto questo. Ieri sera la città al buio e con le strade innevate sembrava Teramo sotto i bombardamenti, ma almeno lì il fascismo, siamo sicuri, che le strade le avrebbe liberate.